Seduta straordinaria per il Consiglio Comunale questa mattina a Vasto, un'assise che ha visto protagonisti Giampiero Di Florio, ex procuratore in città e attuale procuratore di Chieti, e Bruno Gian Giacomo, ex presidente del Tribunale di Vasto e ora sostituto procuratore generale della Corte d'Appello a Roma. Ai due magistrati è stato consegnato un attestato di civica benemerenza per quanto fatto negli otto anni in cui hanno operato in città. È stata una forte forte emozione, davvero qualcosa di inaspettato e spero e mi auguro che tutto questo sia collegato non solo alla mia persona fisica ma soprattutto all'istituzione che rappresento e al lavoro che per otto anni e mezzo quasi ho fatto in questo territorio. È l'invito che ho rivolto ai pubblici amministratori di volere bene a questo territorio, di pensare all'interesse pubblico di questo territorio e se hanno dubbi sull'azione amministrativa di valutare bene se l'interesse pubblico è prevalente rispetto a quello privato. E questo è un messaggio che ho voluto lanciare perché io mi sono occupato di questo, verificare se l'interesse pubblico era prevalente. Grande emozione anche per Bruno Gian Giacomo. Io non sono solo un cittadino di Vasto ma sono nato a Vasto a pochi metri da qui e ricevere questa benevolenza è stata una cosa che mi ha molto molto colpito ed emozionato. Quest'ultimo poi si è soffermato sull'importanza del presidio di giustizia vastese e della sua permanenza sul territorio. Il futuro sembra essere ottimistico se stiamo alle parole della politica, io spero che alle parole seguano i fatti, dare comunque la continuità della giurisdizione a questo territorio a mio avviso è assolutamente importante e che la politica lo faccia assolutamente.